buongiornissimo a tutti i belli e brutti buongiorno da michelone michelone il grande michelone grande ragazzi un bacione a tutti i belli e brutti freddo sempre freddo sempre freddo sempre freddo con michelone con doppia baretta doppia baretta j j j j mettiamo che questa mettiamo che questa vediamo michele con tripla baretta date che roba vediamo se riescono è troppo piccola quella sopra allora 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 ragazzi minimo l'iscrizione al canale come dico sempre date una mano michelone andare su col canale dai ragazzi fatemi una cortesia regalo di natale dai fate una data una mano michelone da su con gli iscritti 115 iscritti per il regalo a uno di voi eh ve l'ho già detto a 1500 maglietta originale dello store a uno di voi ok dipendentemente da che squadra tifi allora parliamo del nostro del nostro pres del nostro presidente john 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 che si fa molto intervistare ultimamente si fa molto intervistare non lo so perché forse non forse non avrà un cacchio da fare a casa non lo so forse avrà litigato con la moglie non lo so comunque si dà molto da fare nei nei molte interviste molto ma ha detto cose molto interessanti perché una volta l'altra volta ha parlato di certe cose adesso ne ha dette altre ne ha dette altre e si è svegliato anche lui si è svegliato anche lui stranamente ma si è svegliato anche lui insomma dove le sono scritte perché non ricordarmi tutto e parla intanto della vendita della juventus che ha detto che ma hanno ha detto basta con ste storie la juventus non si vende non si vende è di famiglia e rimarrà e rimarrà della famiglia anzi bisogna eccellere ha detto ma questi sono vocaboli sono vocaboli suoi sono vocaboli poi parla della borsa che ha detto che bisogna che ma questo l'aveva già detto anche ma ha letto in un video su una signora ha parlato che si 100 per cento che la juventus uscirà dalla borsa difatti anche al can detto che usciranno usciranno dalla borsa e poi ha detto un punto fondamentale che ha che è contento perché si sono accordati ma boh ma l'avevamo capito che a me che ha messo un punto un punto su tutte le faccende sappiamo plus valenze e pare paghe stipendi tutte quelle cose la hanno hanno messo un punto definitiva definitivo definitivo a tutte le cose difatti sulla se notate nei giornali non viene più scritto cosa rischia la juventus cosa faranno la juventus chi ne non se lo sente più nominare non se lo sente più nominare avete visto ha dovuto intervenire el ca se no con quell'altro con quell'altro si è un io lo capisco che è un calarsi le braghe ma qui saremo andati vanti anni 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 a farci le ulcere le ulcere ragazzi a farci venire il bile nero perché se no non finiva mai più mai più perché loro continuavano magari tirare fuori qualcos'altro 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 perché quelli la i poteri forti sono così magari riesce a svangare a svangarla in qualcos'altro poi loro ti tirano fuori con un'altra roba vanno vederti il pelo nell'uovo qualsiasi cosa tu fai sono sempre la ha dovuto accordarsi avrà fatto bene perché a questo punto qua ha fatto bene almeno adesso non ci rompono più le palle non ci rompono più le palle accordati difatti vi ripeto che sui giornali vedete che non c'è scritto più cosa rischia la juventus di qua di là tutto silenzio dice insomma che ha dovuto ammettere un punto un punto definitivamente e poi parla del signor allegri qui svia sempre la domanda anche l'altro giorno vi ho detto che svia sempre la domanda non l'ha mica riconfermato non l'ha mica riconfermato perché qui parla di un prossimo progetto adesso ci arriviamo che non l'ha riconfermato ha detto che allegri deve vincere ha vinto prima ma deve tornare a vincere allegri perché c'era un progetto colui di tre anni questo è l'ultimo questo è l'ultimo e io ho paura che se questo qua vince gli fanno fare anche il quarto anno questo ho paura questo e poi ha detto che ha dovuto rifinanziare per dare ossigeno alla alla società perché con tutti quei casini che sono venuti fuori tipo tipo sapete no fuori dalla dalla centro di introiti della cempio più gli introiti delle non vittorie insomma hanno dovuto rifinanziare per dare un respiro comunque detto che questo è l'ultimo rifinanziamento chiuso i rubinetti adesso si chiudono i soldi devono ritornare indietro e questo è un per il progetto questo qui è l'anno zero tanto ho detto che questo è l'anno ma questo sarà un progetto che incomincia dal prossimo anno per tre anni un progetto di tre anni quindi non lo so allegri e non lo so perché un nuovo progetto di tre anni io non penso che preveda l'entrata di 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 anche perché quell'altro sempre torino è sempre che gira lì intorno ai ragazzi è sempre che gira il conte lì è sempre che gira lì e penso che si avrà messo anche il materasso fuori lì sapete fuori del grande grande obiettivo di capitale l'ho fatto per dare forza alla juventus e persone per triennio 0 e poi qui una cosa importante siccome adesso gli sponsor avete visto che noi abbiamo che non avremo più gip adesso avremo a e roba di 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 voi lo sapevate quanto quanto prendeva la juventus di come sponsor sapete quanto prendeva la juventus mi pare che prendeva una roba tipo non vorrei dire non vorrei dire cagate una venti trenta milioni di euro all'anno di sponsor su dalla jeep sapete quanto quanto arriverà dalla dagli emirati e dagli emirati arabi soldi di sponsor alla juventus ormai ragazzi gira tutto da un miliardo e quattro un miliardo e quattro cento milioni praticamente l'inter il tempo dell'inter un miliardo e quattro arriverà dagli emirati arabi ragazzi è una roba ormai una roba da fuori di testa questo calcio qua è una roba da fuori di testa un miliardo e quattro arriverà da lì ma un miliardo e quattro sapete quant'è è il fatturato della juventus è di due anni e mezzo due anni e mezzo fatturato della juventus a questi qua in un anno gli danno un miliardo e quattro sarebbe quello che fattura la juventus in quasi due a due a due anni e mezzo è follia è follia vabbè se gli va bene così sono contento sono contento il padrone ha parlato ragazzi e quando parla il padrone bisogna star sentire bene bisogna come dice qualcuno leggere tra le righe leggere tra le righe questo volevo dirvi ragazzi e mi raccomando sempre iscrizione canale dato una mano michelone dai ragazzi come dico sempre dato una mano michelone cerco di tenervi compagnia cerco di fare di tenervi compagnia di dvd no mi raccomando mi raccomando come dico sempre tre cose like iscrizione canale campanellina queste tre cose qua non vi domando no un saluto da michelone da jj e dei tre cappelloni anche bene anche figata che roba che roba michelone ciao raga